Non esiste un posto sicuro Questi agenti sono dei direttanti, l'ha capito anche lei Direttanti a chi? Deveranze, dobbiamo stare a sentire le minchiate di questo qua ancora per molto Sono pronta a rimetterci la vita per lei e per sua figlia Non le basta questo? No, non le basta! Bastardo! I miei colleghi direttanti sono morti per colpa tua, pezzo di merda! Di che si basta! Lei lo sa come fa un pesce spada quando viene catturato nelle tonnare? Si dibatte, fa strage dai tonni che è attorno prima di arrendersi a morire Tra i suoi superiori c'è un pesce spada che è stato avvicinato da Scalia dalla sua famiglia Io sono la rete che lo sta portando a galla E voi? E noi ci siamo, i tonni! Sì, i tonni che gli stanno attorno Sì, i tonni che gli stanno attorno a tutti i nostri spazi Io lo faccio! Sì, i tonni che gli stanno attorno a tutti i nostri spazi Bella, te ci sei sparata, questo Non mi ha toccato! Non mi ha toccato! Non mi ha toccato! Non mi ha toccato, capito? Chiara, mi dispiace Mi dispiace, Chiara Mi dispiace Maremo C'hai ragione Se sente il botto Ad Arcisio No, Arcisio, no! No, aiutatelo! No, no, aiutatelo! Aiutatelo! Ad Arcisio! Non mi dispiace E lo fondo! E lo fondo! Danelo! No! Alizio, come amore o donno! Grazie a tutti